L'esperienza di questi 11 mesi è stata un'esperienza di una maggioranza molto grande e quindi un'esperienza in cui occorre accettare diversità di vedute. Non occorre cercare, come è stato detto, la mediazione a tutti i costi, ma per alcuni provvedimenti particolarmente importanti l'unanimità è molto importante, purché, ripeto, il risultato della mediazione abbia senso, abbia significato. Abbiamo prima chiarito come questo ne abbia tanto. Per il resto è chiaro che ci sono divergenze, diversità di opinioni, però non è stato mai di ostacolo all'azione di governo. Pensi, per esempio, anche quando si dice che Draghi non decide più, beh, insomma, stiamo dimostrando insieme a questi ministri qua oggi, stanno dimostrando che la scuola aperta è una priorità. Questo non era il modo in cui questo problema era affrontato in passato.